Buonasera da Riccardo Zarfati, chiusura di settimana oggi venerdì 18 novembre, vediamo quindi l'operatività con le nostre chinasci per la giornata di lunedì 21 novembre. Questi sono gli strumenti che ogni giorno monitoriamo con i grafici giornalieri e questa è la sintesi della giornata. In assenza di dati macro rilevanti, quantomeno per quanto ci compete, il dato saliente, il dato più importante mi pare la estrema debolezza, il tracollo dell'indice italiano, soprattutto se comparato alla stabilità degli indici tedesco e dello Standard & Poor's 500. Vedete subito dal riassunto, Italia a meno 1,75%, vendite cattive oggi in giornata su questo indice, Germania debole ma comunque appena uno 0,20%, Standard & Poor's in questo momento a meno 0,28%. Non si salvano granché neanche troppo le materie prime, vedete l'oro che scende dello 0,77%, il petrolio ritraccia dello 0,33%, mentre abbiamo un segnale positivo per quanto riguarda il corn che sale dell'1,10%, vedremo a breve che questo ha implicazione nelle nostre candele. Euro-Dollaro continua a scendere senza sosta, ormai sono 6 o 7 giornate che va giù senza neanche un rimbalzo giornaliero, vedete oggi un altro 0,28% di decremento e siamo scesi sotto la soglia dell'1,06%. Qua tutti si aspettano un qualche tipo di supporto ed è probabile che ci sia qualche rimbalzo nelle prossime giornate, però a giudicare del movimento sembra un movimento piuttosto persistente. Andiamo quindi subito a vedere le nostre candele, che cosa è successo, iniziamo chiaramente dall'indice come di consuete, questo è l'indice italiano, vedete la quarta candela rossa di nuovo di trend, per cui a questo punto il trend ribassista sembra essere piuttosto conclamato. Ora, naturalmente a vedere il grafico, negli ultimi 3 o 4 mesi ha sempre funzionato quello di il trading range, nel senso di acquistare 16.000 e rivendere intorno ad area 17, se rifunzionerà un'altra volta non lo so, perché chiaramente quando c'è una pressione così ripetuta sui supporti, generalmente questi supporti tendono a cedere, per cui non vorrei passare per pessimista, ma il quadro che sta dando l'indice italiano in prossimità del referendum non sembra orientarsi molto all'ottimismo, per cui attenzione qua di nuovo a prendere ai 16.000 punti, perché questa è un po' la chiusura di oggi, 16.200 per il sottostante, per il future sottostante, per cui saremmo arrivati di nuovo alla zona supporti, ma aspetterei veramente qua un qualche segnale confermato, se non addirittura un ritorno sopra i 17.000 prima di rivalutare l'indice italiano. Questo perché al di là dei movimenti delle borse internazionali in generale, qua c'è un fattore specifico che conosciamo tutti, il referendum, soprattutto in un contesto, importante in un contesto in cui il no sembra dai sondaggi stia prevalendo con un certo vantaggio. È anche vero che i sondaggi ultimamente non le hanno proprio azzeccate tutte, però questo diciamo che è un sondaggio un po' più semplice rispetto alle elezioni americane e il vantaggio del no al momento sembra piuttosto consistente, per cui c'è nervosismo, c'è cautela e questa cautela vedete è pienamente riflessa nei grafici atipici dell'indice italiano rispetto ad altri indici europei. Rispetto ad esempio al DAX che abbiamo visto oggi scendere dello 0,20% in chiusura, qua da un'altra candela verde siamo sempre sopra le medie mobili che si sono un po' appiattite ultimamente, per cui non c'è più un chiarissimo segnale di rialzo, questa potrebbe essere chiaramente una fase di stabilizzazione prima di eventualmente tentare finalmente la rottura delle resistenze che potrebbe coincidere con un rimbalzo dell'indice italiano, oppure questo è un consolidamento prima di tornare giù a testare di nuovi supporti in area 89 per lo strumento. Vediamo, al momento quello che possiamo dire è ancora una candela verde di stabilizzazione, il segnale long per cui a mio avviso rimane valido, rimane più che valido quello sul indice americano. L'indice americano ancora a candela verde, oggi 0,1% lo strumento, per cui si continua a salire con estrema lentezza, indicatori in ipercomprato, non sono stati fatti i massimi storici perché c'è stato ritracciamento oggi proprio in prossimità di questi livelli dei massimi storici che se non ricordo male erano stati, diciamo, credo all'inizio di settembre, almeno su questo strumento. Bene, questo quindi per quanto riguarda l'indice, per cui direi in generale rimane il tono moderatamente rialzista per DAX ed SP500, si è conclamato ormai ribassista purtroppo per il nostro indice. Sulle materie prime vedete oggi meno 1,6% per l'oro, che vedete fa un'altra profonda candela rossa. Io credo che questo sia il vantaggio principale dell'operare con l'Ekinashi perché io personalmente mi aspettavo in questa zona un qualche rimbalzo, ma vedete, operando semplicemente, seguendo i prezzi, tutto diventa più semplice, per cui fare elucubrazioni o lavorare sulle aspettative quasi mai è vincente, questo dà la possibilità di seguire i prezzi e seguire i momenti. Magari la candela verde verrà prepotente la prossima giornata, ma per il momento chiaramente il trend ribassista rimane decisamente attivo. Ricordo che qua siamo in zona di per venduto, qua è stato rotto un supporto piuttosto importante, siamo in zona 1.200 dollari per il sottostante, da un punto di vista tecnico, questo è una zona di supporto, vedremo se i prezzi faranno quello che ci si aspetta o se anche da lunedì continueranno a scendere fino al livello di supporto successivo. Sul petrolio abbiamo oggi una situazione di debolezza, meno 0,6% lo strumento, che fa una candela rossa di stabilizzazione. Questo pattern comincia sempre più ad assomigliare ad un rimbalzo che non ha una vera inversione rialzista, chiaramente a mio avviso è ancora presto per dirlo, perché anche i rimbalzi possono essere strutturati in tre onde, per cui potrebbe fare anche una cosa del genere, prima eventualmente di riscendere. Comunque questa è una candela dubbia che non chiude a mio avviso l'operatività al momento rialzista, per cui naturalmente a fronte di un'altra candela rossa ci metteremo neutrali in attesa di nuovi segnali, ma comunque per il momento a mio avviso si può tentare di tenere, mantenendo sempre naturalmente uno stop in macchina di sicurezza in caso di possibili sempre rovesci improvvisi. Infine un segnale nuovo sul corn che vedete oggi fa 1,7% di incremento, ieri avevamo segnalato, vedete qua c'è questo livello di supporto, da questo livello è partito una candela rialzista, vedremo se saprà continuare quantomeno fino al prossimo livello di resistenze. Per cui nuovo segnale rialzista sul corn che a mio avviso si può tentare di seguire, non c'è qua un iper venduto, ma ricordo che c'è stato qua molte volte prima senza essere mai andato in ipercomprato, per cui anche da questi livelli con questo pattern grafico nel suo complesso una situazione del genere può essere credibile in versione diciamo rialzista. Questo è tutto, per cui sommario andiamo subito a vederlo, passiamo alle nostre chart, passiamo quindi al sommario, vedete la situazione è un po' cambiata nel senso che al momento vale ancora il rialzo per l'indice, con l'eccezione dell'indice italiano bersagliato dalle vendite, oro ancora a ribasso, petrolio si può mantenere a rialzo e nuovo segnale per il corn che oggi fa una candela interessante di possibile ripristino rialzista. Bene questo è tutto, invito sempre a mettere un like se questa video analisi giornaliera vi piace e naturalmente ad abbonarvi a One Hour Trading. Ricordo sempre ci sono tre possibili modalità di abbonamento, si può decidere la durata in modo che possa essere una prova oppure fare direttamente un anno per avere un investimento migliore in termini relativi, in ogni caso la registrazione è gratuita e permette di accedere ad alcune aree riservate del silo come ad esempio dei portafogli statici fatti esclusivamente ed in esclusiva al 100% da ETF che possono essere tranquillamente visualizzati e perché no utilizzati. Questi sono i miei contatti, sono naturalmente come sempre disponibili per qualunque chiarimento o approfondimento, viago naturalmente un buon fine di settimana e ci vediamo lunedì per un nuovo appuntamento.